Buonasera, sono qui con Giuseppe Trieste, presidente del Fondo Fiabba. Giuseppe, spiegaci un po' cos'è Fiabba e che cosa è successo oggi a Catania di importante per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche. Intanto Fiabba è il Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche che sono le fondamenta per abbattere le vere barriere che sono quelle culturali. Oggi a Catania c'è stata per quattro anni di seguito la conferenza permanente delle pubbliche amministrazioni su eccellenza il prefetto ha convocato tutte le pubbliche amministrazioni oltre 40 istituzioni dove ogni anno si fa il punto di che cosa sono riuscite a fare nelle loro amministrazioni per migliorare la qualità di vita di tutte le persone, di tutta la diversità umana. Pensiamo a una famiglia, madre, padre, figlio, nonni, nipoti ma la città di Catania è una grande famiglia e noi dobbiamo creare qualità percepita per tutte le persone perché se noi creiamo la qualità per tutte le persone anche le persone con disabilità il vero errore è pensare di creare un mondo per le persone con disabilità dimenticando l'alto 99% della popolazione ma se noi creiamo una qualità percepita da tutto il 99% della popolazione anche la fascia delle persone con disabilità degli anziani, delle mamme con i bimbi sui passeggini eccetera, tutti potranno vivere la città di Catania e noi per questo speriamo presto di fare una cabina di regia per la total quality affinché anche il comune di Catania abbia questo strumento di mettere intorno a un tavolo tutte le pubbliche amministrazioni e i privati. Dopo Catania quale sarà la prossima tappa? Ma già la settimana prossima a Roma ci sarà la conferenza stampa il primo ottobre per la giornata nazionale Fiabadei che si fa aprendo Palazzo Chigi la presidenza del Consiglio dei Ministri e la prima domenica d'ottobre domenica 4 ottobre a Piazza Colonna Roma invitiamo tutti i cittadini che vorranno venire a vedere quello che è l'attività che da 12 anni viene fatta affinché dalla presidenza del Consiglio dei Ministri tutti i ministeri, le regioni, le province, i comuni tutti assieme possiamo cambiare proprio la faccia delle nostre città pensiamo al turismo, ai milioni di turisti pensiamo alla mobilità pensiamo al concorso nazionale che abbiamo lanciato con tutte le scuole d'Italia in collaborazione col Ministero delle Pubbliche Amministrazioni affinché gli studenti delle elementari le medie e le superiore ci dicono qual è il loro pensiero quale è il titolo e proprio la diversità i colori della diversità umana quali sono i requisiti per partecipare a questo concorso? ma basta che la scuola chieda al suo direttore provinciale che ha ricevuto dal direttore regionale la lettera di questo concorso che il Ministero della Pubblica Istruzione ha diffuso in tutte le regioni d'Italia compreso Trento, Bolzano e Val d'Aosta e il sito di fiaba www.fiaba.org mandateci le vostre in pensione segnalateci anche le incongruenze che trovate nelle vostre città grazie allora tutti i giorno 4 a Roma proprio per fiaba grazie da Antonella Uglielmino per Globus Television e alla prossima